Eri molto motivato, eri su tutti i palloni, una partita molto intensa. Poi alla fine probabilmente eri un pochino, la non abitudine, una partita intera. Però sei inserito bene. Grazie, grazie. No, sì, la partita è una cosa diversa, molto diversa. Soprattutto sul ritmo, no? Inizia così da subito, 60 minuti. Io ho detto al mister che un giocatore fresco arriva, che io posso per vedere. Quindi sì, ero a pezzo. Però hai giocato bene quei 60 minuti. Ho provato a far vedere che ci sono e che siamo tutti lì, uno all'altro, non c'è differenza tra l'uno e l'altro. Senti, in che partita invece ti aspetti? Questa è una partita che poi secondo tempo l'Alessandria ha controllato e ha una sensazione di essere sicuramente dispericolosa. E quando io invece ti aspetti tra poco il giorno? Noi siamo entrati nel scuolatorio e sapevamo che fanno un grande primo tempo e rientravamo ancora più carichi. E c'era il sesto di entrato, il giocatore che dà la spinta, no? E quindi sapevamo che potevamo andare a scelere il pareggio e anche la vittoria. Però non è arrivata la vittoria, però il pareggio va bene. Conta più mercoledì o costava altrimenti? Com'è? Conta più mercoledì che coppa? No, conta tutti e due, tutti e due contano. Poi la Coppa sappiamo che è una cosa importante, quindi vediamo mercoledì, ma una partita dall'altra sono importanti stessi. Grazie.